Presidente di Girolamo, oggi la FISPIC ha presentato in Abruzzo a Pescara i prossimi eventi internazionali, una FISPIC che parla molto abruzzese. Sì, una FISPIC che parla molto abruzzese, con nuove nomine all'interno dell'organigramma nostro federale e soprattutto presentiamo degli eventi internazionali perché il 2015 per noi è molto importante perché abbiamo tanti eventi internazionali, abbiamo le qualificazioni a Rio 2016, quindi con il judo, con il golball, con il calcio per non vedenti e abbiamo i mondiali, i giochi IBSA mondiali a Seoul in Corea dove noi parteciperemo con quattro nazionali con il judo, golball, showdown e calcio a 5 per i povedenti. A 5 per i povedenti abbiamo il nostro staff abruzzese, abbiamo il responsabile tecnico Leonello, abbiamo l'allenatore Bucci e abbiamo il preparatore dei portieri Gianluca Pacchiarotti. Tra l'altro lo sport per i povedenti, per Ciechi è importante ancora di più per far sì che il ragazzo possa inserirsi ancora meglio nella società. Sì, è molto importante anche per l'integrazione, l'integrazione è importante perché riusciamo a far fare attività sportiva al non vedente, all'ipovedente quindi molto molto importante, però dico integrazione sì ma professionalità veramente atleti, atleti veri, non atleti come si poteva dire prima poveri non vedenti o povero cieco. No, ci sono atleti che veramente si preparano per qualificarsi per Rio, quindi parliamo di qualifiche per le Paralimpiadi ci sono atleti che si preparano per dei mondiali, degli europei e quindi sono veri atleti. Si è pensato di usare lo sport come sostegno e anche come riabilitazione. Lo sport in generale e soprattutto per la disabilità è importante per far misurare, come dire, intanto avvicina la conoscenza di se stessi ma è anche motivo di relazioni quindi lo sport come strumento per conoscere i propri limiti e magari per superarli ma anche come strumento di relazioni.